Resistenza con le loro armi, con la loro guerra, uccidono la gente, devastano la terra. E la polizia, che è una persona sociale, non è accettabile, che una piazza è di tutti e tutte, probabilmente per difendere voi cominciamo, iniziamo a spaziarlo, con l'attrice di Guadagnia, la stazione, di nuovo a freddo, cazzo. E la polizia è la polizia del primo maggio, questo è il giardio dei lavoratori, dei lavoratrici, degli studenti e di chi lo cambia il futuro, per il futuro più giusto. Cani, siete solo dei cani! Via! 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 Via Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.